Benvenuti a un nuovo episodio di Business Planet. Siamo a Malta per parlare di business angels, uomini e donne che investono i loro capitali, certo, ma anche il loro tempo, il loro know-how e il loro carisma nelle imprese in fase di avviamento o di rinnovamento. Qui esiste una piattaforma sul modello di quelle che fanno crowdfunding che collega gli imprenditori a una vera comunità di investitori sia in Europa che nel resto del mondo. Brigitte Bauman, figura del rilevo internazionale nel campo dei business angels, è la creatrice di questa piattaforma. Questa mattina ha incontrato per fare il punto Alex, il capo di una società una volta in difficoltà. Resultato, questa azienda specializzata nell'affitto di breve durata di appartamenti arredati presto potrà assumere due nuovi dipendenti. Quando abbiamo deciso di investire in una start-up abbiamo per prima cosa cercato una grande squadra, secondo un modello innovativo di business e terzo buone condizioni e buoni co-investitori. Ogni mese la piattaforma organizza incontri virtuali o meno fra imprenditori e investitori. Negli ultimi anni il sistema ha permesso di raccogliere 7 milioni di euro per l'avvio o l'espansione di 25 aziende. Da sottolineare, perché è piuttosto raro, la forte presenza femminile in questa organizzazione di business angels. Siamo molto orgogliosi perché un terzo dei nostri business angels sono donne, rispetto alla media del settore che è al 5%. Perché le donne business angels possono svolgere un ruolo importante nello sviluppo di questo modello di finanziamento? Quali sono i vantaggi di questo tipo di piattaforma online? Ecco alcune risposte. Le donne rappresentano ancora soltanto un terzo degli imprenditori in Europa. Inoltre i business angels donne prendono in considerazione settori più ampi di quelli a cui normalmente guardano gli uomini. Le donne si rivolgono a temi più pratici come la tecnologia applicata a salute, istruzione e cultura. Ciò crea aree diverse di investimento. Una donna potrebbe trovare meno scoraggiante lanciare l'attività di altre donne. Grazie a video che consentono di comprendere meglio i progetti degli imprenditori e a documenti legali che si possono condividere online, la piattaforma è uno strumento molto utile alle business angels donne che a volte hanno meno tempo da dedicare alle loro attività di investitrici. Mi piace trovare tutti i progetti in un posto solo in modo da poter guardare e trovare il mio prossimo investimento e poi naturalmente rende il processo amministrativo molto più semplice. Per gli imprenditori che cercano un finanziamento raccomando loro di essere ben preparati prima di iniziare, unire i piccoli investitori ed essere sicuri che questi li possano aiutare ad ampliare i loro affari.